E si è conclusa la formazione del secondo semestre accademico presso l'Università degli Studi di Palermo per gli studenti di lettere del corso Arte, Musica e Spettacolo. Tema centrale riflettere sulla figura del tiranno per voi. È una giornata particolare perché è uno di quei momenti a cui il Parco di Segesta tiene moltissimo. Questo progetto con l'Università ci ha dato veramente una valenza culturale, anche didattica, molto importante per gli allievi e per tutte le persone che hanno frequentato nel corso dell'inverno questi seminari e oggi si conclude questo progetto sulla figura del tiranno. Il progetto Segesta è un centro studi internazionale sul teatro antico che è stato istituito nell'ambito di una convenzione tra l'Università di Palermo, il Parco archeologico e anche il comune di Calotafimi Segesta. La finalità è quello di studiare le tematiche che sono relative alla messa in scena e quindi i testi, le tragedie in un'ottica che è di filologia teatrale, quindi volta alla messa in scena. Abbiamo deciso di studiare la figura ideologica del tiranno, non soltanto in testi teatrali antichi ma nell'ampio spettro che questo ha, quindi a partire dall'antigone di Sofocle sino al melodramma sino al Novecento e anche la riflessione giuridica su questo versante, cercare di unire la riflessione sul piano scientifico e teorico con la sperimentazione scenica. Sono un antichista ma mi sono ritagliato un argomento un po' eccentrico rispetto alla tematica della tavola, cioè parlerò del tiranno sì ma non nel teatro antico ma in un'opera di Shakespeare, il Giulio Cesare di Shakespeare dove c'è la figura di un tiranno un po' particolare. Giulio Cesare visto con gli occhi di Shakespeare era o no un tiranno e di questo cercherò di parlare. Riflettere su Antigone Creonte e quindi sulle leggi scritte e sulle leggi non scritte degli dei ma la sottolineatura è che in realtà non si tratta né di un episodio singolo né di un topos letterario appartenente soltanto al teatro antico. Perché questa riflessione, non la mia ma in genere la riflessione sul tiranno, se non viene innervata nel tessuto della vita di tutti i giorni attraverso gallerie letterarie ma attraverso soprattutto l'aria che respiriamo, la neutralizziamo. La figura del tiranno anche senza nomi e cognomi per intenderci, noi la respiriamo tutti i giorni, dobbiamo comprenderla da una parte e dall'altra elaborare anticorpi per potervi contrastare.